allora la terza volta che cerco di registrare questo video benvenuti o bentornati su monica blog che cosa è successo allora ragazzi innanzitutto vorrei che questo racconto serva anche a voi in modo da poter evitare di fare gli stessi miei errori ok in poche parole innanzitutto se è la prima volta che siete qui non cominciate da questo video perché questo video serve per spiegare alle persone una cosa che mi è successa di recente e insomma è stato un po un incidente che mi è successo quindi questo canale insomma altri contenuti ben più interessanti di questo però siccome alle persone ho detto guardate poi che si sono preoccupate che mi seguo guardate poi vi racconto tutto vi spiego tutto per benino sul blog quindi se questo è il primo video che beccate magari guardate bene un altro e se invece siete i miei affezionati seguaci dei miei due canali vi mando un bacio sono qui a parlare insomma non è che sto benissimo però detto vabbè sono qui seduta un videino si fa senza fare solo le storielline da 15 secondi su instagram che insomma non riesco a spiegarvi la situazione cominciamo dal fatto che ho beccato il covid ho iniziato a stare male lunedì scorso oggi è domenica ho avuto la febbre alta ho avuto la tosse che mi ha sconquassato parecchio insomma covid classico sul mio marito è stato un pochino più cioè ha avuto la febbre alta anche lui però per esempio a lui la tosse non viene forte come viene a me insomma va beh covid che è esploso lunedì sono la tachipirina praticamente io ho cercato di non prenderla proprio per evitare di impedire alla febbre di fare il suo lavoro l'ho presa mercoledì martedì sera perché ho detto ok voglio dormire e l'ho presa mercoledì sera che però mercoledì sera avevo la febbre già a 37 e mezzo quindi che è successo nella notte tra mercoledì e giovedì io poi mi sono svegliata verso l'uno e mezzo mezza fradicia perché me lo fa alla fine di una malattia quando sfebbro in più avevo presa anche la tachipirina ma è tara ovviamente ragazzi ormai lo sapete com'è e mi sono svegliata la notte mezza fradicia quindi sono andata tara me lo fai fa sto video è tre volte che ci provo vabbè scusate sono un po' frastornata perché ancora non sto bene di fatto mi sono svegliata la notte ho fatto questa grande sudata quindi mi sono alzata ho sbaraccato tutto il letto mi sono cambiata mi sono messa a asciugare il letto col phon e niente mentre ero lì che facevo tutte queste cose mi sentivo nelle orecchie mi sentivo tutta questa cosa nelle orecchie ora mi rendo conto che probabilmente già allora avevo un calo di pressione solo che poi mi sono messa seduta asciugare il letto poi sono tornata al letto e amen mi sono alzata la mattina e ho detto ok guarda mi faccio una bella doccia così mi lavo i capelli mi lavo tutto il sudore della nottata e si parte qual è stato l'errore che dopo una nottata così dopo aver preso la tachipirina dopo aver fatto tutto tutto sto trambusto fare una doccia bollente la mattina a stomaco vuoto senza un caffè senza niente e mi è venuto un calo di pressione che già dovevo aver avuto la visaglia la notte quindi io ho fatto altre volte la doccia la mattina a digiuno però magari non avevo avuto il covid non avevo sudato la notte non avevo preso la tachipirina poi io ho la pressione bassa scusate eh allora siccome c'è tara che le hanno levato i ferri in teoria dovrebbe stare chiusa nella gabbia però io la lascio uscire a patto che non salga super aria e invece è già la stavolta che vuol montare sulla gabbia stai buona ti prego vai a nannina brava amore vai a nannina ragazzi sono tanto stanca allora quindi riepilogando è stato un insieme di cose per cui ragazzi se avete la pressione bassa se la notte avete fatto una sudata se avete avuto la febbre non fate la doccia la mattina a digiuno bollente quindi io niente mi sono fatta sta doccia ho cominciato a asciugarmi i capelli tutto normale a un certo punto ho cominciato a risentire questo vu 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 nelle orecchie e a sentire eh l'abbassamento di pressione ora a me i collassi di pressione sono successi tante volte solo che sono sempre riuscita a mettermi in sicurezza mettersi in sicurezza intendo o sdraiarsi appena sentite questa che vi va giù la pressione la cosa migliore da fare è sdraiarsi e tirare sulle gambe o almeno mettervi seduti in poltrona prendere del sale qualcosa ok io stavolta si vede ero talmente debole talmente provata ho fatto in tempo e non ho proprio perso coscienza non mi era mai successo di svenirmi così perdendo coscienza e stavolta è successo questo solo che io praticamente l'ultimo ricordo che ho e vado in cucina a mettermi seduta e poi io mi sono risvegliata in terra mi sono toccata la testa e ho visto il sangue nella mano non vi dico lo shock ho girato un po' la testa c'era il sangue in terra e ragazzi io se ci penso sono ancora scioccata cioè a me questa cosa mi ha scioccato io ci dovrò lavorare in qualche modo perché è una cosa che mi ha è veramente brutto ragazzi perché comunque battere la testa ritrovarsi in terra e il sangue accanto insomma poi non capivo la gravità quindi lì per lì non so dove ho trovato la forza di alzarmi sono riuscita barcollando ad andare in camera ad aprire il cassettone prendere un asciugamano e tamponarmi dietro la testa e stendermi sul letto e chiamare luigi non so come ho fatto e quindi niente lui è arrivato non ho voluto andare non ho voluto chiamare il pronto soccorso perché ho detto chiamo il pronto soccorso mi portano vengono con quell'ambulanza sciagattata mi sballottano in quella strada assurda perché c'è tutto il pavè per arrivare all'ospedale cioè è un delirio è un delirio ragazzi per fare cosa per tenermi lì con la mascherina perché c'ho il covid parcheggiata in un corridoio per non so quante ore oddio mi sta tremando vedete non ho superato lo shock il trauma e quindi ho scelto di non andare gli ho detto guarda assolutamente non mi portare all'ospedale non ci voglio andare si è chiamato il medico ha detto di tenere sotto controllo di guardare quindi mi sono fatta medicare da luigi la testa appena ho potuto alzare appena me la sono sentita di tirarmi su mi sono fatta medicare da lui perché lui comunque è responsabile del primo soccorso nell'azienda dove lavora quindi un minimo di capacità ce l'ha lui ha fatto anche il corso quello per usare il defibrillatore insomma non è proprio uno sprovveduto e niente quindi appena ho potuto alzarmi mi sono alzata mi ha medicato disinfettandola pulendo la parte mi ha voluto tagliare un ciuffo di capelli perché gli davano noia quindi mi ha disinfettato la parte poi ci ha messo il petaline e poi ci abbiamo messo il ghiaccio ovviamente non a contatto diretto ma abbiamo messo i cubetti di ghiaccio in un sacchettino e poi in un altro della stoffa e l'ho tenuto sulla parte guardate tremo ancora perché se ci penso ragazzi è stato brutto quindi niente ma cura mi ha medicato così e questa medicazione l'abbiamo fatta anche più volte durante il giorno perché poi di fatto questa ferita non smetteva di sanguinare dalla mattina alle 8 più o meno che è successo io mi sono ritrovata la sera alle 5 che questa ferita sanguinava ancora non copiosamente ma insomma sanguinava anche perché magari si richiudeva ma bastava che io spostassi un po' i capelli e si ricominciava quindi poi abbiamo messo il Tranex che è un antiemorragico poi alla fine ho chiamato una mia amica che suo marito lavora appunto in ospedale come infermiere nel pronto soccorso quindi gli ho detto guarda per favore se ha tempo se può quindi mi ha mandato il suo marito a darmi un'occhiata lì mi ha rassicurato e mi ha detto guarda è venuto ha guardato dice guarda non c'è bisogno di punti è un'escoriazione e devi tenerla premuta col ghiaccio punto non c'è da fare altro e quindi così ho fatto poi alla fine insomma ha smesso la notte poi ci ho dormito sopra mi sono messo ovviamente una traversa sulla 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 federa e è andata bene non ho insanguinato niente quindi insomma però ragazzi ho dormito stile salma io ora sono tre notti che dormo stile salma nel letto quasi praticamente senza muovermi anche perché purtroppo qual è il problema è che una botta del genere poi Luigi ha ricostruito un po' la dinamica di come è andata la cosa guardando la scena del del crimine diciamo praticamente io avevo tolto la sabbiera dal bagno e l'avevo messa nell'ingresso sembra che io abbia perché l'abbiamo trovata sporca di sangue quindi sembra che io abbia battuto la testa su uno spigolo della sabbiera e poi sono rimbalzata di qua comunque nel cadere non solo ho battuto la testa sulla sabbiera ma poi ho battuto la testa anche sul pavimento quindi immaginate su una situazione comunque già compromessa perché già io ho il mio collo o con l'operazione di Arnold Chiari con le vertebre in alcuni punti con l'artrosi tutti i miei problemi muscolari già prima di questa caduta avevo un po' di problemi mi erano peggiorati i problemi di equilibrio dovuti alla cervicale non avevo ancora ripreso la mobilità normale da dopo l'episodio quasi un anno fa ormai degli otoliti che mi erano durati per tre mesi quindi io ancora non avevo ricominciato a muovermi liberamente perché non ho ripreso cioè voi non so se riesco a spiegarlo cioè su un corpo che ha tanti problemi ogni minima cosa poi ci vuole del tempo per riprenderla quindi io avevo ricominciato piano piano a rifare un po' di esercizi per ridare mobilità quella che non potevo fare perché quando avevo gli otoliti se faccio certi movimenti mi partiva tutta la rotazione avevo ricominciato ricominciando si vede ero andata a stuzzicare delle cose infiammate quindi avevo già dei disturbi di equilibrio peggiorati dopo sta botta capite a me e infatti anche stamani appena alzata mentre ero lì all'acquario che facevo che pulivo i ciotolini dei gatti ho avuto un attimo di sbandamento e gli sbandamenti che ho adesso non so bene che movimenti me li provocano sicuramente girarmi così in qua e là velocemente me lo fa e insomma devo muovermi con molta cautela perché specialmente se sono sola in casa e anche quando mi sposto mi muovo tendo ad appoggiarmi qua e là poi sono rimasta impaurita ragazzi sono rimasta impaurita perché infatti non vedo l'ora che torni la mia la mia naturopata per lavorarci anche a livello energetico su questi traumi ovviamente ho fatto il patio nel rescue remedy perché mi sono e insomma ci devo lavorare mi rendo conto perché anche adesso sono sono ancora sotto shock per questa cosa che mi è successa lo devo dire e niente quindi la situazione è questa io ho ancora ovviamente dolore perché ho un bernoccolo qua dietro non tanto grosso a livello di crescita però comunque mi fa male dove ho picchiato la testa ho dolore qua all'anca sotto perché ho picchiato anche il culo e e niente quindi sono ancora con la debolezza post covid con tutte le magagne che già ci avevo prima con la botta che ho preso con lo shock addosso e e niente la situazione è questa ragazzi io adesso oggi voglio provare a uscire perché è una settimana che non esco di casa voglio provare a uscire voglio andare a trovare gatti lassù e visto che è domenica Luigi mi ci porta lui perché io per adesso in queste condizioni non me la sento di guidare anche se e non me la sento neanche di cioè poi fa anche freddo quindi non lo so non so niente però ecco vi avevo detto che vi avrei raccontato vi avrei spiegato e vi volevo rassicurare insomma mamma mia ma che faccia però mi sono data al rossetto eh guardate almeno il rossetto me lo sono dato per voi bene ragazzi io penso un video così sconclusionato però mi rendo conto che non sono molto lucida sono un po' così e giovedì finalmente tornerà la mia osteopata e così mi farò controllare da lei se si è spostato qualcosa se ci sono delle vertebrine da risistemare da mettere a posto quindi la sto aspettando in gloria e niente che dire sul canale continueranno a uscire i video che erano già previsti già programmati sicuramente e perché quelli l'avevo già registrato e già programmati e questo però lo voglio far uscire subito oggi così almeno spero di rassicurarvi sul mio stato di salute e nonostante insomma non posso dire di star bene però sono viva quindi nonostante la botta ragazzi sarebbe potuta andare peggio sarebbe potuta andare meglio quindi ragazzi occhio se avete la pressione bassa a non fare gli stessi errori che ho fatto io ciao a